La grande onda, la grande onda è quella che oggi dovete surfare nella città perché arrivano foto e immagini dalla zona nord, soprattutto Seveso che ha esondato questa notte e che ormai è arrivata fino in cerco di valazione, quindi fermata a Zara nella metropolitana in quel punto piena acqua, tutto in questo momento la metropolitana sembrerebbe ancora aperta, io adesso magari mentre... Sì, regolare, M5 è regolare Regolare, però vi invitiamo comunque a guardare, a tenere sotto occhio il sito e l'app di ATM per eventuali disagi Oggi è martedì Oggi è martedì, quindi ospite di giornata, come sapete benissimo, Walter Cherubini, presidente di consulta periferia Milano, buongiorno Buona giornata a tutti, una giornata ventosa e piovosa Eh sì sì E' entusiasmo Mi piace Con sto pioggia, con sto vento, che che bussolo con vento, ma siamo riusciti ad arrivare, dai Che paura Sono il conte giacola, come dicevano Ronaldo Giovanni e Giacomo Walter, hai detto anche, giustamente, occhio all'acqua, ma occhio anche al vento, perché appunto sappiamo quello che poi può portare, provocare, l'abbiamo visto a luglio Allora, ovviamente parliamo di periferie come tutti i martedì, perché le periferie ci hanno sempre spunto per tantissimo, no? Anzi, oggi non so se lo sai, hanno cambiato le regole della sosta L'hanno cambiato solo in centro Solo in centro, quindi massimo due ore se stai al centro Problema che anche in periferia ormai hanno messo linee blu ovunque, vabbè Invito a emigrare verso le periferie Sì, sembra veramente un invito quasi quasi a voler andare verso il fuori della città, ma chissà Walter, so che a te è un tema che, insomma, ti torna sempre molto di interesse E soprattutto anche quest'anno che festeggiamo il centenario della missione degli antichi comuni È che non sono le uniche cose centenarie che esistono a Milano Ci sono tante realtà a Milano che sono un punto di vita, che animano le periferie O animano quelli che appunto sono i punti centrali per la vita di questa città E non tanto centrali geograficamente parlando Ma diciamo che noi possiamo leggere questo centenario come un fatto urbanistico C'erano una volta i comuni, c'erano una volta i borghi e quant'altro Ma possiamo leggere anche questo centenario attraverso chi ha vissuto e lo sta vivendo Questo centenario attraversandolo E quindi possiamo pensare a tutte quelle realtà, diciamo così, comunitarie Che mano a mano sono state fondate per rispondere a un'esigenza Chi di assistenza, chi abitativa, chi sportiva, chi educativa e quant'altro E che sono esattamente i soggetti che attraverso la loro storia possono raccontare Come si è voluta la vicenda cittadina, pre-1923 in questo caso E anche guardando al domani Questo è il punto di riferimento Perché altrimenti siamo slegati da tutto Ed è come se ogni giorno si ricominciasse da capo Senza avere né capo né coda Invece no, ci sono tutta una serie di realtà Che proprio possono leggere il passato Ma anche il futuro Vivendo un presente molto operativo Pensiamo solamente alle Croceverdi Croceverde e Sempione Croceverde e Baggio Ma la Croceverde e Sempione Fino agli anni Sessanta si è chiamata Croceverde Musocco Musocco, sì Quindi un legame territoriale proprio perché Quelle comunità cominciavano a dire Ma possiamo organizzare qualcosa che ci possa aiutare nel soccorso Quando non stiamo bene Ecco che allora si creano delle forme strutturate E questa struttura di persone E anche poi di mezzi che si sono naturalmente adeguati Dai carretti che portavano gli ammalati Alle ambulanze che invece in pratica ti curano in ambulanza Ecco, questo qui è un modo di leggere Un modo di leggere la città Per chi si fa carico proprio anche dell'esistenza Quindi diamo un'occhiata a quello E facciamo conoscere queste realtà Giusto, quello è fondamentale Questo è il punto Quello è il punto e quello è fondamentale Un altro tema che so a te essere caro È quello delle assegnazioni di alcuni luoghi di questa città Ne abbiamo parlato anche in alcuni speciali a Crescenzago Ad esempio dove la casa comunale Ora in mano alle associazioni Rischia di essere venduta E quindi anche venire meno la sua È stata messa in vendita E rischia la sua funzione Se addirittura l'abbiamo già acquistata Lì c'è un problema di conoscenza degli atti comunali Che chi lavora non è ancora Ma soprattutto il tema è la mancanza La perdita, anzi la possibilità di perdere Un luogo sociale Un luogo di utilità per la socialità E per soprattutto, non tanto società Scusa, per tanto il territorio Su questo torniamo subito dopo Una brevissima canzone Torniamo fra pochissimi appunto a parlare di questo Perché abbiamo letto alcune notizie quest'oggi Che vorremmo commentare insieme a te Torniamo un po' sul tema del circo di ex combattenti Perché so che insomma Pezzale Baia Monti Che non è in periferia Ma che il tema però poi si ripete anche nella periferia Adesso andiamo invece con i Negramaro e Fabi Fibra Insieme per una nuovissima canzone Che è Fino al giorno nuovo Negramaro, Fabi Fibra Negramaro, Fabi Fibra Fino al giorno nuovo 8 e 40 minuti Crystal Radio Good Morning Milano Qui con il nostro ospite del martedì Walter Cherubini Oggi tu hai letto una notizia La riprendiamo Allora, si parlava settimane fa Di uno sfratto al circo Combattenti reduci In piazza del Bagliamonti E' intervenuto ieri In una commissione a Palazzo Marino L'assessore al bilancio Conte Ha detto Non si tratta di uno sfratto Ma si tratta sostanzialmente Della disdetta A fine concessione E non è Cioè non ti licenzio Non ti rinnovo il contratto Il concetto è quello Walter, a te la parola Prego Walter Dal punto di vista giuridico E' diverso Naturalmente Perché un conto è Interrompere un contratto E un conto è Non rinnovare un contratto Su questo non è che ci siano Grossi dubbi Diciamo pure che Questa qui Da una parte più In maniera Elementare Se non è zuppo E' pambagnato Perché? Perché un conto è che Uno fa un contratto Perché magari non può essere Di data infinita Senza fine Senza scadenza Nello stesso tempo Uno ha un certo tipo Di attività Un certo tipo Di iniziativa E quindi presume Va bene Ho il mio contratto Per tot numero di anni Ma poi penso Di andare avanti Perché è da una vita Che sto andando avanti Ecco le cose Possono andare così Ma direi che La lente di ingrandimento Con la quale dobbiamo guardare Crea l'occasione Per dare un'occhiata Di carattere generale E cioè Qual è Il regolamento Che esiste E che si sta applicando Da una parte Per le locazioni commerciali In Galleria Vittorio Emanuele Da un'altra parte Possiamo dire Invece per quelle Dove tutti corrono Facciamo Un valore Della locazione X E dopodiché Si moltiplica Per due o tre volte Vuol dire che In quel luogo In quella fettina Di Milano Nel salotto Di Milano Le cose Hanno una dinamica Di un certo genere Ma se noi Andiamo a guardare Quella che è La città abitativa E quindi La necessità Di rinforzare Le presenze Sociali Imprenditoriali Perché Diciamo sempre Che animano Il territorio Allora Noi dobbiamo pensare Anche a qualcosa Di diverso Che quando c'è Un meno Vuol dire che È un meno Per quella realtà lì Nello stesso tempo Abbiamo tantissimi luoghi Vuoti Che possono essere Proprio Un'apertura Di una luce Pensiamo a tanti Anche locali Siamo sull'ordine Delle centinaia Di locali Commerciali Artigianali Che vanno In deperimento Tra le altre cose Ma soprattutto Sono luoghi bui Se noi Li accendiamo Aiutiamo Anche chi aiuta Ecco Qui dobbiamo Darci una Una regolata Generale Anche dal punto Di vista Legislativo È vero Che ci sono Delle normative Anche nazionali E quant'altro Ma noi dobbiamo Pensare anche A un cambiamento Delle normative Perché se le normative Prevedono Che se io ti do In locazione Uno spazio comunale Per fare un Doposcuola E dopo Il tot Anni di tempo In vigore Questo contratto Uno Per cercare Di continuare A fare Il doposcuola Per i bambini Che hanno Delle difficoltà Deve fare Anche un'offerta Di locazione A rialzo Capite che Allora Entriamo Nella logica Del lucro E non Del riconoscimento Di un'attività Volontaria Che Già di per se stessa Ci mette Danaro Mettiamolo In questa maniera In più Anche La collettività La comunità Perché il comune È parte Della comunità Gli dice Ah vuoi fare del bene Sì ma mi devi pagare Capite che c'è una Contradizione in termini Che deve essere Sanata Perché questo Crea poi alla fine Tantissime difficoltà A chi opera Perché si distrae Perché si distrae anche È preoccupato Ma riuscirò A continuare a dover Perché poi Uno che fa una buona Iniziativa È anche legato A quell'iniziativa Lì E cerca di mantenerla Perché c'è un riconoscimento Perché questa È la modalità normale Altrimenti Siamo in un'altra fase Del Menefreghismo Non mi interessa Niente Invece noi Siamo in questa fase Nel riconoscere Chi si prende cura E la cura È un tema Che spesso Viene fuori Nelle nostre Chiacchierate E soprattutto Anche vi invitiamo A iniziare Andarle a vedere Perché stanno uscendo Uno a settimana I vari speciali Che abbiamo fatto Negli antichi comuni Annessi a Milano E il tema Della cura Infatti torna Torna spesso Cura che sicuramente Avrà messo Calcutta Nella sua nuova canzone Due minuti Che andiamo ad ascoltarci Adesso qui Su Cristian Radio All'interno di Good Morning Milano A fra poco Applausi Applausi per tutti Applausi per Lorenzo Masieri Per Valte Cherubini Per tutti voi Che ci ascoltate Qui su Cristian Radio Applausi giustificati Non ti ricordo Un'altra canzone Queste applausi L'ho detto Già settimana scorsa Quando tu non c'eri Eh no Pablo Ah è Pablo È vero È vero Secondo me è una citazione Io non vorrei che sia una citazione A quella canzone lì Non sono citazioni Ma sono realtà Quelle che ci dà invece Lorenzo Masieri Perché arrivano notizie Dal fu Twitter Ora X Che Ora X Sembra Ora X No Che purtroppo Il Seveso È arrivato In zona isola Sostanzialmente Su Twitter Abbiamo Si riescono a vedere Un sacco di Filmati Dei milanesi Delle varie agenzie Che stanno riprendendo Appunto L'esendazione del Seveso Tweet del comune di Milano Di poco fa È in corso L'esondazione del fiume Seveso Battuglie della polizia locale Hanno chiuso le strade allegate Presenti anche Le squadre di protezione civile Allagati i sottopassi Rubicone e Negrotto Prima abbiamo dato la lista Dei tram E degli autobus Erano tre Tre o quattro autobus Adesso sono Tram Uno Cinque Sette Dieci Quattordici Diciannove Trentatré E autobus Quarantatue Sessanta Novanta Novantuno Novantadue Nella zona appunto Circolazione Ralentata Per alberature danneggiate Dunco la linea Quindi Ci stanno per cadere alberi E poi Sette 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 Gli mezzi Che adesso Alle 8 E 50 Sono Fermi O comunque Con limitazioni Per via Del maltempo Se proprio Dobbiamo trovare Una cosa positiva Ah no L'Ambro Come siamo messi Con l'Ambro Si dice Essere al limite Ok Con l'Ambro Siamo al limite Dicevi Se vogliamo trovare Una cosa positiva Fra un'ora Ci sarà il sole Ah ok No Per dire Che non peggiorerà Per tutto Nel resto della giornata Meno male Stati fatto che appunto Il Seveso Per l'ennesima volta È esondato Walter Così conosciamo Che c'è il Seveso Ah Alto lato positivo Potrebbe essere questo C'è l'idrografia Dopo diciamo Quasi 60 incontri Che abbiamo fatto Con il tema Del centenario Varie realtà Associative Si sono impegnate A approfondire Questo tema Del centenario Quindi di questi Antichi comuni E nello stesso tempo Anche a comunicarlo Agli altri Abbiamo detto anche Che ci sono Numerosi libri Che parlano Di questi Antichi comuni Antichi borghi Nello stesso tempo Appunto Abbiamo scoperto Che Abbiamo avuto Anzi meglio La conferma Che i milanesi Non conoscono Milano Perché 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 Non è previsto L'insegnamento Della città di Milano Nelle scuole Nella didattica Uno al massimo Fa un accenno A quello che è Il circondario Della scuola Finito Finito Se le città Si costruiscono Sull'acqua Avranno dei benefici Ma nello stesso tempo Bisogna vedere Anche quali sono Gli aspetti Critici Che poi ci possono essere E conosce L'idografia di Milano Che è molto ampia Il Nirone Chissà che era Un fiume Un corso d'acqua L'Olona Torniamo All'Ambro Torniamo Al Seveso Chi è che ci insegna Queste cose Noi conosciamo Gli affluenti Del Po Però L'acqua che ci sta Sotto casa E quindi anche Conoscere Quelle che sono Le dinamiche Dell'acqua Ci consente Di porre riparo Noi abbiamo avuto Per quanti Decenni Più di 40 anni Di più Che il Seveso Esonda Ed era una preoccupazione Per tutti quanti Quindi la prima cosa Da fare E cercare di Non farlo più esondare Questa mi sembra La prima cosa Nell'ordine Delle cose Eppure Noi abbiamo Delle immagini Del 1973 E dove si camminava Sulle passerelle Perché appunto Il Seveso Era esondato Stesse identiche immagini Cambiano solo i modelli Delle auto Si capisce che hanno Sono dei modelli Delle auto E dei cartelli pubblicitari Ma effettivamente Anni 50 Anni 70 Anni 2000 Stesse identiche immagini Quindi è chiaro Che c'è anche Una dinamica Poi amministrativa Perché se io Da piccolo Imparo che c'è Quella criticità Me la porto Anche dietro Se invece arrivo Anche occupare Posizioni amministrative Senza questa consapevolezza Poi è una rogna Che mi trovo lì Ad affrontare La conoscenza La conoscenza è fondamentale Quindi questo Come dice sempre Appunto Il buon Walter I milanesi Non conoscono Milano E ahimè Anche i milanesi Che dovrebbero Conoscere A volte Non la conoscono O meglio Ci vantiamo tanto Magari di sapere Dell'orecchio Del citofono Più antico Di Milano Della luce Dei felicotteri Però poi Ci perdiamo invece Magari su cose Che potrebbero aiutarci Nella vita Nella vita comune Vedremo Dovranno esserci Le famose Vasche di laminazione A Bresso Sembra che in questo momento Ancora non stiano funzionando Visto quello Che sta succedendo Non sappiamo nemmeno Se sono in funzione Infatti Sembra che in un momento Non stiano funzionando Infatti Sono appunto visto quello Siamo arrivati alla fine Walter Dobbiamo salutarci Al volo Così Così al volo Dobbiamo salutarci Così al volo Mancano dieci secondi Inesorabile ci taglia E parte la sigla Su cui dovremo salutare Tutti quanti Walter grazie Buona giornata a tutti E buona giornata Anche a noi Ma continuiamo Perché adesso invece Cioè non continuiamo Anzi salutiamo Perché adesso Inizia la nostra sigla